Daniele Falleri e Fortunato Cerlino per Dietro la Notte intanto benvenuti su Spettacolomania. Ben trovati. Ben arrivati. Eccoci qua. Allora eh io partirei da Fortunato Cerlino perché eh Bruno il suo personaggio eh ti ti mancava il mago nella tua carriera il mago il prestigiatore è un personaggio molto strano a tratti naif poi inquietante passionale dici ovviamente quello che ci puoi dire perché essendo un thriller pieno di colpe di spena infatti infatti non possiamo rivelare troppo diciamo che quello che tu hai detto è in buona sostanza quello che si può dire perché ok termina qui la nostra intervista termina qui la nostra intervista ma nel senso che però si può dire un'altra cosa si può dire che comunque è un film dove i personaggi sono costretti a recitare mentre stanno recitando quindi c'è un doppio livello di azione per l'attore perché anche il personaggio deve recitare delle cose quindi questo gioco di magia di cui tu parli è moltiplicato in scena nel senso che dovevamo fingere sparire per alcuni personaggi su alcuni argomenti mentre invece per altri bisognava renderli palesi tra l'altro poi c'era sempre un gioco di recita con uno spettatore sono alcune scene tu hai visto il film quindi sai bene che c'erano di fronte a me dei personaggi che sapevano delle cose altri che ne sapevano delle altre quindi questo ha stimolato molto il gioco fra di noi anche il gioco di scena e quindi è stato un palcoscenico dove apparivano e sparivano delle cose in continuazione anche molto divertente immagino un po' per per tutto il cast molto molto abbiamo lavorato con un coach che mi ha insegnato dei giochi di prestigio cromato vero che ho poi ripetuto a casa mia figlia non soltanto ma anche di notte mandavo dei video a Daniele dove facevo vedere le cose che stavo imparando e altre che inventavo quindi abbiamo avuto una lunga corrispondenza di video notturni dove io l'ho torturato con i giochi che stavo imparando perché mi sono divertito come un matto vabbè fortunato hai un piano B non si sa mai in questo periodo assolutamente anzi se volete potremmo trovare qualche io ne approfitto se puoi fare questo per me io faccio giochi di prestigio nelle feste per i bambini compleanni battesimi se mi volete sono a vostra disposizione ok faremo un post ad hoc Daniele come nasce questa storia complicatissima piena di colpi di scena dove nulla è ciò che sembra no si dice così ok dove nulla è ciò che sembra brava allora intanto mi verrebbe da dire che nasce da un gioco di prestigio cioè nel senso che non a caso c'è un prestigiatore dentro appunto interpretato da da fortunato che è un po alla fine il simbolo di quello che è un po tutta tutta la vicenda perché una vicenda dove succedono delle cose che non sembrano dove c'è un trucco dietro dove c'è sempre un dietro le quinte che si muove in contemporanea quindi su più livelli ma sinceramente il film e la storia soprattutto nasce ovviamente dalla scrittura nasce da un frammento da nasce dalla storia di due sorelle normali fra virgolette che sono roberta gianrusso e stefania rocca che a un certo punto come dire costrette dagli eventi decidono di superare dei loro limiti andare oltre quelli che possono essere gli spazi che conoscono e avventurarsi in qualcosa di diciamo illegale qualcosa che va fuori dove li porterà le porterà questo non lo so l'elemento di bruno cioè di fortunato era fondamentale l'elemento maschile in un gruppo di donne che hanno delle interazioni fortissime perché sono tutti legami di sangue lui è l'unico esterno che arriva dentro scompiglia tutto quello che sono certi equilibri alcuni anche precari e ci si assesta continuamente su un nuovo equilibrio pensando che sia quello giusto invece ce n'è un altro ancora dopo e questo è il massimo che posso dire questo è il massimo che possiamo dire però possiamo anche dire che forse i personaggi partendo da non so se possiamo dirlo ma lo diciamo da una sorta di vendetta e la butto lì così però poi dietro c'è anche qualcos'altro forse la classica ricerca in qualche modo della felicità di un riscatto no fino a che punto ci possiamo spingere per ottenere appunto la felicità che ci spetta ma guarda secondo me ci possiamo spingere sicuramente oltre quelli che sono i confini soliti certo è una responsabilità perché in un modo o nell'altro capito se tutti cominciassero a fare una cosa del genere non tutti sono in grado di sostenerlo per cui è come se fosse una cosa che dico a parte ma nella nella vita è così a un certo punto quando la vita ti propone delle cose diverse da quelle che sai quando la vita ti scombina tutti i piani che hai anche con azioni molto dure o addirittura dei lutti come in questo caso qui perché loro hanno perso padre e madre beh a quel punto sta al singolo capire come affrontare il tutto se lasciarsi andare se soprassedere dimenticare oppure se cercare di riprendere in mano il timone di questa barca che è la nostra vita per andare verso un obiettivo che è l'obiettivo in questo caso delle protagoniste fortunato volevo chiudere con te con una bandura che tu cogli un tema che è nel film sai poi un'opera come questa forse non deve dare risposte però ti pone di fronte ad un problema è un problema che tu cogli che secondo me è importantissimo quando subiamo un'ingiustizia fortissima molto profonda come quella dei protagonisti di questo film cosa siamo disposti a fare per ritrovare la giustizia e quindi anche la felicità che ci è stata strappata è una domanda che c'è nel film e in questo film la cosa meravigliosa è che c'è una risposta al femminile sai noi siamo abituati un po' a un cinema dove sono sempre gli uomini a fare le strategie e poi le donne devono eseguire oppure le subiscono in questo film la novità è che c'è un punto di vista femminile strategico molto forte disposto a tutto e la differenza fondamentale permettimi di aggiungere perché tu hai toccato un tema che a me è molto caro spesso nei film dove il tema dove i protagonisti sono soltanto uomini l'obiettivo è l'acquisizione di potere e ricchezza quello che fanno queste donne in realtà ha più a che fare con l'amore di pristinare uno stato ideale di amore che è stato strappato all'inizio della storia e che con le loro strategie perché le donne sanno amare gli uomini sanno conquistare quindi purtroppo siete avete qualcosa in più da questo punto di vista ovviamente condivido in pieno vi saluto e vi ringrazio tantissimo in bocca al lupo crepe il lupo e grazie a te grazie a voi